Sono Domenico Fioravanti e sono stato un nuotatore della nazionale italiana e nella mia carriera sono riuscito a raggiungere traguardi importanti come vincere un campionato europeo, una medaglia ai campionati del mondo e il raggiungimento più importante è quello di vincere la medaglia d'oro agli Olimpiadi di Sydney nel 2000. Al termine della mia carriera sportiva ho avuto l'idea insieme ai miei soci di intraprendere una carriera imprenditoriale anche grazie a certe competenze che il nuoto mi ha insegnato e che sono riuscito a mettere poi in pratica nel mondo del lavoro. Il valore che più mi è stato utile poi anche nella carriera lavorativa sia stata quella del sacrificio. Le difficoltà maggiori che ho riscontrato nel momento della nascita di questo progetto è sicuramente la scarsa conoscenza se vogliamo anche dal punto di vista economico finanziario perché comunque in passato non avevo mai trattato questi temi quindi come mi piace sempre ricordare è anche questo un allenamento. E adesso vi racconto la mia storia. Grazie a tutti.